Il silenzio purtroppo non aiuta perché senza nessuna comunicazione ufficiale, senza nessun aggiornamento, i rumors dilagano e molti di questi sono delle cavolate incredibili e ne parliamo in più dettaglio in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso da Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò due nuovi video sulla prima squadra capitale, uno alle 14 e uno alle 21, per cui clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Silenzio degli ultimi giorni non favorisce la pace dei tifosi laziali, chiamiamola così. Perché? Perché senza nessuna comunicazione ufficiale escono fuori rumor, schiacchiere da bar che di concreto e di reale hanno poco, pochissimo. L'ultima riuscita stamattina è che Sarri avrebbe chiesto la cessione di Milikovic Savic. Capite che ci vuole poco a ragionare e a capire che è una stupidaggine. Vi pare che un allenatore che deve arrivare a Lazio dice io però mi dovete vendere più forte che ci avete. Non ha senso, no? Magari Sarri potrebbe dire va bene, capisco la situazione, capisco se mi vendete un top player, ma chiedere espressamente lui la cessione di Milikovic Savic sarebbe una stupidaggine senza senso. Anche perché Milikovic, l'abbiamo visto negli ultimi anni, si è adattato a tanti ruoli differenti. È partito con Stefano Pioli, praticamente trequartista, con Inzaghi si è adattato a un ruolo più difensivo e praticamente l'ultimo anno ha fatto il mediano. Quindi è un giocatore che nel 4-3 di Sarri avrebbe possibilità di adattarsi e soprattutto potrebbe ricoprire ruoli differenti. Per cui capite che il chiedere la cessione di Milikovic Savic sarebbe una follia e non avrebbe senso. Per cui è assolutamente infondato questo rumor. Come è poco credibile la richiesta di cedere Lazari. Anche lì un allenatore che arriva e dice questo me lo vendi non ha senso, soprattutto visto che Lazari è uno dei giocatori che ha avuto il rendimento migliore quest'anno nella Lazio. Lazari, io l'ho detto spesso, si può assolutamente adattare al 4-3 di Sarri. Non solo. Qualcuno dice che non può fare il terzino. A parte che può fare assolutamente il terzino. Ma Lazari potrebbe anche giocare come esterno altro del tridente. Potrebbe giocare nel trio offensivo e garantire magari maggior copertura in fase difensiva. Per cui non è assolutamente vero che Sarri ha chiesto la cessione di Milikovic Savic o Lazari. Si sta trattando. Anche ovviamente le necessità tecniche sono importanti per Sarri. Però Sarri sappiamo ha detto che la rosa della Lazio secondo lui è valida e quindi non ha mai chiesto cessioni. Ha chiesto acquisti. Evidentemente Maurizio Sarri vuole qualche nesso in più perché è convinto che con qualche nesso in più la Lazio possa crescere e diventare una squadra più forte. Ma dire che Sarri ha chiesto la cessione di Milikovic Savic o Lazari è una totale follia. Detto questo, oggi e domani sono i giorni decisivi. Oggi e domani la Lazio e Sarri parleranno. Si andranno di più nei dettagli. Ripeto, la grande differenza, il vero problema è quello economico. Non è la cessione di Milikovic Savic. Il vero problema è che la Lazio è partita da una base di 2 milioni e mezzo. Sarri dà una base di 4 milioni. Quindi c'è una differenza importante, una differenza che andrà limata in questi due giorni. Non è facile. Io ripeto, vedo molte persone ottimiste. Io non sono così convinto che Sarri andrà a Lazio. Soprattutto se lo titolo non farà un passavanti. Purtroppo vuoi un allenatore di qualità e lo devi pagare. E quindi Sarri difficilmente accetterà i 2 milioni e mezzo. Probabilmente 3-3 e mezzo sarà il punto d'incontro. Però la grande domanda è Claudio Lotito farà quel passo in avanti? Ecco, al momento io non sono per niente convinto che lo farà. E quindi per questo vi dico, state calmi, state tranquilli. Perché al momento Sarri non è l'allenatore della Lazio. Non c'è un accordo. Non c'è stato l'accordo come ha scritto qualcuno. Non è vero che è saltata tutta la trattativa. Perché la trattativa deve ancora entrare nel vivo. Però ripeto, c'è grande distanza economica. Il problema è solo quello economico. Non è vero che c'è un problema tecnico eccetera. Però ragazzi, la distanza c'è. E quindi oggi o domani, anzi oggi e domani, si tratterà per limare i dettagli. Però, in questo video vi volevo dire che assolutamente Sarri non ha mai chiesto la cessione di Milinko Isavic o di Manuel Lazavi. Sicuramente chiederà due o tre innessi di qualità per migliorare la rosa e per poter competere per i primi quattro posti. Ma mai Sarri ha chiesto la cessione di Milinko Isavic. Grazie a tutti.